Solo Yari Van de Putt del Catanzaro nel girone C di Serie C ha fatto tanti assist quanti ne ha serviti lui. Ruben Botta è al centro del Bari di Michele Mignani. Numeri alla mano, il trequartista argentino ha inciso sul 33% dei gol realizzati in stagione dei Biancorossi. Incisivo, come la coppia Antenucci-Paponi, 10 centri in due, pur non segnando come un attaccante. Il numero 10, nato 31 anni fa a San Juan, cercato dal direttore sportivo Ciro Polito, sin dai tempi in cui lo stesso era d'Ascoli, e l'epicentro Biancorosso. L'ultima perla in ordine cronologico è quella ammirata contro il Latena sabato scorso nel 3-1 del San Nicola. Colpo di tacco a superare due avversari, un passo di tango per disorientare Amadeo e un sinistro delicato con il contagiri a ispirare il colpo di testa vincente di Paponi. Giocate da 10, cresciuto nel Boca e passato poi per il Tigre e il New Elsold Boys, dove ha anche rimediato un infortunio al crociato. Oggi, a quasi 10 anni dai primi passi italiani, con le divise di Inter e Chievo-Verona, in Italia è tornato un botta diverso, che in Puglia è arrivato dopo la tappa alla San Benedettese di Maxi Lopez e Paolo Montero. Gli otto gol e gli otto assist nelle marche hanno permesso a Polito di notarlo e a notare il suo nome sul taccuino. Dopo due mesi di corteggiamento, a cavallo della notte di San Lorenzo, era arrivata la firma con il Bari. Contratto biennale con fari puntati sulla Serie B. Mignani lo ha inserito dalla panchina alla prima di campionato contro il Potenza. Poi, nelle successive 15 partite, non ha fatto mai a meno di lui tra i titolari. Merito della qualità, ma anche della quantità. Dati alla mano, botta corre per più di 7,5 km a gara. Solo Maite e Terranova, tra i giocatori di movimento, hanno collezionato più minuti di botta. Il tanghero con il vizio dell'assist che sta conquistando Bari.